Solo motivi professionali alla base della decisione di Sergio Staderini di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di presidente di Coingast con una punta però di rammarico. Si tratta di un conflitto di interessi del mio istituto per quanto riguarda il codice etico che non permette ai dipendenti di assumere cariche in società pubbliche o private. Da qui ringrazio il mio istituto che mi ha dato anche del tempo per poter staccare la spina ed è arrivato il 31 e quindi ho provveduto a fare il mio dovere. La situazione che ho trovato era una società che è proprietaria del 25% di Estra quindi deteneva questa partecipazione e venivano poi distribuiti solo i dividendi alla fine dell'anno. Quindi praticamente una scatola a volte. Io mi sono molto adoperato e dato da fare per poter rianimare Coingast e devo dire che con molta soddisfazione ci sto quasi riuscendo però ahimè purtroppo devo lasciare. Spero che il mio successore prosegua quest'opera. Estra secondo me giustamente sta diventando una multi utility molto importante e Coingast potrebbe essere appunto la multi servizi a disposizione dei comuni per dargli tutta quella serie di servizi che ovviamente hanno necessità per poter espletare le loro esigenze. Le dimissioni saranno ratificate nell'Assemblea dei Soci che è in calendario per il prossimo 31 di gennaio quando si conoscerà anche il nome del suo successore che dovrà essere indicato dal Comune di Arezzo.